Musica Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con la Rassena Stampa di Udinese Channel. Da oggi parte il palenzesto versione autunnale, quindi siamo in diretta ogni mattina dalle 7.30 per iniziare la giornata dell'informazione. Tutti gli altri appuntamenti restano fissati agli stessi orari, alle 14 il TG edizione pomeridiana, alle 19.30 il TG edizione serale, poi alle 21 Udinese Tonight tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Avremo poi la diretta di allenamento alle ore 17, quest'oggi saremo in diretta dal Bruseschio e dal Friula, a seconda di dove la squadra svolgerà la sua seduta per portare nelle vostre case le informazioni in tempo reale sulla seduta di lavoro della squadra in vista della partenza per Braga, che avverrà domani mattina. La squadra poi sosterrà una rifinitura sul campo del Braga, come prevede il regolamento della UEFA. Ci sarà la conferenza stampa di Guidolin, tutto seguito da parte nostra, rigorosamente in diretta e in tempo reale. Andiamo subito a vedere i titoli dei giornali. Cominciamo con la Gazzetta dello Sport, il titolo principale sul trofeo Berlusconi di ieri sera, ma in particolare il titolo sotto la testata è per il trofeo Berlusconi di ieri sera. Vince sempre la Juve, Pogba che sorpresa, matri in gol, meglio di pato, Allegri si consola con Rubini, Rossoneri da rivedere, Berlusconi non va alla premiazione, Bianconeri senza Buffon e Pirro si impongono per 3 a 2. Ma il titolo principale invece è sul mercato, la notizia che ormai da qualche giorno circola con insistenza è dello scambio ormai vicinissimo tra Cassano e Pazzini, quindi tra il Milan e l'Inter, che si scambierebbero questi due attaccanti. Lo scambio tra Milan e Inter e Cassano per Pazzini si fa, confermate le nostre anticipazioni, le due società stanno trattando, l'unico nodo rimane il conguaglio, i Nerazzurri chiedono 10 milioni, Galliani per ora ne offre 7. Andiamo di spalla cominciando dall'alto per il processo d'appello di calcio scommesse, Conte oggi sarà in aula, il tecnico e i suoi avvocati sperano di cancellare la squalifica di 10 mesi, continuando poi sempre verso il basso, il calcio estero Inghilterra, il Manchester City parte bene, prima ok ma si ferma a Ghero, ma ha dovuto soffrire più del dovuto la squadra di Mancini per battere il Southampton, squadra che abbiamo visto all'opera noi direttamente in Inghilterra, nell'amichevole contro l'Udinese, con l'Udinese che si impose 4-0. Il Chelsea invece vince con un grande hazard, stasera c'è l'atteso esordio di Van Persie con lo United, un esordio che naturalmente cattura l'attenzione un po' di tutti, visto che il calciatore, ormai ex Arsenal, ha tenuto a catalizzata l'attenzione del calciomercato per diverse settimane, anche la Juventus sembrava sul punto di poterlo prendere, però alla fine il Manchester United era spuntata con un'offerta migliore sia per l'Arsenal che per il calciatore. Andiamo invece in Spagna dove il Barcellona comincia così come di solito, gioca tutte le sue partite in maniera travolgente, segnando ben 5 gol contro la Real Sociedad, battuta 5-1 per Messi doppietta, mentre il Valencia ferma il Real Madrid, quindi deve già rincorrere in classifica dopo una giornata. In campionati come quello spagnolo dove sono solitamente due squadre a contendersi lo scudetto, essere in ritardo dopo una sola giornata può non significare nulla, ma alla fine a volte questi campionati si decidono sul filo di lana, quindi qualsiasi punto lasciato per strada, però alla fine può diventare decisivo. In Francia invece già crisi al Paris Saint-Germain, pari con due espulsi, Ancelotti e Lavezia, da Giaccio alla squadra parigina senza ibre, Tiago Silva non va oltre lo 0-0 e rischia anche di perdere. Vediamo alcuni box in basso con risultati di due amichevoli, risultati identici, 3-0 sia per la Roma contro l'Aris di Salonico e invece il Napoli abbattuto, sempre 3-0 l'Olimpiakos di Atene. Nel Napoli lo show è servito con il Tris, poi si pensa ad uno scambio, questo quindi è un Rumors di mercato, Ginardino al Genoa per Vargas a Napoli. Da quest'altra parte invece la Roma ha il suo 3-0, è maturato con Reti di Destro che ha fatto lo suo esordio all'Olimpico bagnandolo subito con un gol. La Roma piace, Zeman, De Rossi resterà. O azioni in pratica per tutta la partita ogni tocco di palla di De Rossi, quindi ormai è davvero difficile ipotizzare che possa andare al Manchester City. Chiudiamo con il rompipallone di Geno Gnocchi per iniziare con il buon umore questa nuova settimana. Novità al Museo della Juve, oltre alla sputacchiera a forma di Zeman, hanno messo il Pungible con la sagoma di Mazzarri. Pagina 2 e 3. Lo scambio, clamoroso Cassano-Pazzini. Sì, perentore alla Gazzetta con tre punti esclamativi. Allenatori e club, tutti d'accordo, all'Inter anche 7 milioni, Antonio vuole andare via, la missione di Gagliani ha chiesto lui di essere ceduto, la trattativa c'è e si lavora per lo scambio, il Milan è disposto a pagare in tre anni. Eccoli qui, tutti e due, Cassano e Pazzini potrebbero dare corpo ad un clamoroso scambio, clamoroso ma non unico nel suo genere, perché Inter e Milan, l'abbiamo più volte ricordato anche nei giorni scorsi, spesso hanno dato vita a degli scambi di calciatori importanti. Il barese che ha l'Inter nel destino, perché infatti andiamo a leggere quest'altro titolo, il barese dal destino nerazzurro trattifo, gol e sogni sospesi. Una delle partite che consacrò Cassano, proprio all'inizio della carriera, fu una gara proprio contro l'Inter, nella quale giocò una grandissima partita e segna anche un gol. Il suo Bari riuscì a battere l'Inter. Ecco, vediamo qui, viene ricordato in questo passaggio dell'articolo, il tiro bendato. Nel giorno dei giorni Cassano fa le soldi col Bari e quella notte c'è l'Inter. Ho superato Gheorgato, se ho tirato bendato, è andata bene, mi sembra, dice la sera, dopo aver seccato l'Inter, proprio il 18 dicembre del 99. Il genio che lo mise a proprio agio era Eugenio Fascetti, il primissimo che ha capito la talentuosa croccantezza della calcio professionistico di Cassano. Quella sera andò in scena la vestizione del grande calcio, palla domesticata con il tacco, volata, dribbling di rientro, botta sul primo palo, San Nicola, in delirio, con il Bari, che superò l'Inter. E questa fu la consacrazione di Cassano nel calcio professionistico, l'avvio di Cassano nel calcio professionistico contro l'Inter, per cui la Gazzetta giustamente fa notare che il barese ha l'Inter nel destino. Tra l'altro sembrerebbe anche un tifoso della squadra nerazzurra. Andiamo sempre a pagina 3, qui a lato, per le altre trattative di mercato che riguardano le formazioni milanesi, in particolare l'Inter, perché c'è Maicon che sta per andare via, mentre potrebbe arrivare De Jong e c'è da giocare l'asso Maicon per avere De Jong. Il sondaggio col City spunta al nome di Aogo, classe 87 dell'Hamburgo, terzino della nazionale tedesca. De Jong è stato in panchina nell'ultima partita, nella prima partita di campionato del City contro il Southampton. Potrebbe esserci quindi sicuramente qualcosa per l'interesse dell'Inter su questo calciatore. Un interesse che va avanti da diverso tempo, spunta ormai da diversi mesi il nome di De Jong sul tacquino delle trattative dell'Inter. Andiamo a vedere invece per il trofeo Berlusconieri cosa è successo a Milano. solo Juve allarme Milan, arriva un'altra prova di forza, Rossoneri molli e depressi, Carrera lancia con successo le seconde linee, bene Marrone e Pogba. Pato entra soltanto nella ripresa e tocca al primo pallone dopo ben 25 minuti. Delude la coppia Iepes-Zapata, il più vivace e Robigno con un gol e un rigore procurato. La Juventus va sotto, poi rimonta dimostrando di avere più gioco e più personalità. Questa è l'analisi che è venuta fuori dopo la partita di ieri, analisi di una delle firme più prestigiose del nostro giornalismo sportivo, cioè Luigi Garlando. Andiamo da quest'altra parte, a pagina 5, lo stadio a Silvio, un campione sì ma Borriello no. Il proprietario Rossoneri allo stadio con la figlia Barbara se ne va nel secondo tempo e non va sul parco a premiare. Per ora comunque nessuna contestazione alla società. In basso di Fantantonio che gli piace, il patrono non dice nulla, summit con Galliani a Leghi. A premiare la Juve è andato la D, il pubblico ha applaudito i campioni d'Italia. Un gesto quindi sportivo da parte del pubblico di San Siro. Noi continuiamo, andiamo a vedere le altre notizie, sempre relative al trofeo Berlusconi. Il personaggio è stato ieri tra i protagonisti sicuramente Vucinic, l'infallibile Mirko aspetta un partner per fare l'Europa. Le gambe sono pesanti ma come già contro il Napoli ha fatto la differenza con una punta di livello internazionale, al fianco la Juve può sognare anche in Champions. Da quest'altra parte invece l'Atletica fonda la Juventus e chiede via libera su Llorente. Ecco qui, Fernando Llorente, 27 anni, la Juve vuole offrire 18 milioni, la clausola recessore sarebbe intorno ai 35-36, ma il calcio trova il contratto in escadenza, non ha voluto rinnovare e quindi il prossimo 30 giugno, 30 giugno 2013, si libererebbe a parametro zero. Di fronte a questa possibilità l'Atletica è disposto quindi a trattare per una cifra inferiore rispetto a quella della clausola recessoria. Si può trovare sicuramente un accordo, tanto più che ormai a Bilbao hanno etichettato come traditore Llorente, addirittura bruciando la sua maglietta e mettendo in scena una feroce contestazione. Vediamo invece che cosa accade oggi nel calcio scommesse con il processo di appello con Conte che si gioca il futuro oggi in aula per l'appello di fronte alla Corte di Giustizia e l'allenatore della Juve punta sul proscioglimento. Tutto ruota sulla credibilità di Carobbio, così come gli avvocati, difensori di molti implicati nello scandalo calcio scommesse sul filone Bari, quello, tanto per intenderci, delle dichiarazioni di Masiello, sono riusciti a screditare Masiello ottenendo il proscioglimento dei propri assistiti. Adesso ci sarà il processo di appello perché Palazzi ha impugnato tutte le sentenze di proscioglimento, tutti gli sconti, tutto ciò che è arrivato dal processo della disciplinare dal fatto che Masiello è stato screditato come test, come pentito, la stessa cosa si vuole provare con Carobbio. Gli avvocati cercheranno di screditare Carobbio. Ci sarà anche Giulia Buongiorno, un legale che si occupa anche di giustizia penale, ogni tanto fa capolino in quella sportiva, la ricorderete, quando tentò di far togliere la squalifica a Totti, agli europei, dopo lo sputo su Polsen nella partita Italia-Danimarca. Domani il filone di Bari, Palazzi ha fatto ricorso contro Pepe, Bonucci ed altri, quello che vi dicevamo, le sentenze di primo grado sono state impugnate dal procuratore federale Palazzi. Andiamo a vedere invece il clamoroso scambio di mercato che potrebbe avvenire tra Napoli e Genoa con Gilardino in azzurro, Vargas in rosso-blu si tratta, o dice l'incontro, vicino alla chiusura dell'affare Uvini, il brasiliano verrà girato in prestito, mentre il Siena è in pole position per avere appunto Uvini, nel caso il Napoli riuscisse a prenderlo. Poi Zeman ritrova l'Olimpico, la Roma fa scintille, esordio quindi all'Olimpico con un bel 3-0, il tecnico replica Delcan, la Juve degli ultimi anni non ha dato esempi positivi. Poi andiamo all'interno, vediamo a pagina 17, c'è un articolo di Francesco Velluzzi sulla nostra Udinese e c'è una dichiarazione di Domizzi, Domizzi carica Udinese, ora non hai scuse, è la mia ultima chance, la mia ultima occasione, Maurizio Domizzi si carica così, è la verità, anche se ho un contatto con l'Udinese fino al 2015 sto bene, ho sempre 32 anni, non so quando potrà di capitare, voglio conquistare un posto in Champions, partiamo per Braga con la consapevolezza di non volerci far scappare l'occasione e c'è anche il capitoletto su Totò, dice, l'Udinese è una carta in più, dice Domizzi, Totò di Natale, gli avversari si preoccupano, solo la presenza crea timore, comunque lampante che sia il nostro uomo di punta, un giocatore imprescindibile sicuramente. Sicuramente per la nostra Udinese, Totò di Natale. Lasciamo adesso la gazzetta per passare al Corriere dello Sport con il titolo principale sempre sullo scambio Pazzini-Cassano da una parte perché c'è il caos Cassano, però c'è anche un po' di Juve, anzi tanta Juve perché viene definita un ciclone, quindi un titolo con due argomenti, Juve un ciclone, caos Cassano. In alto sotto la testata Bologna, Ramirez, cerimonia d'addio, piumbano in Italia, i dirigenti del Southampton si accettano le dichieste rosso, l'uruguano viene in Inghilterra, intanto Tider diventa un leader. Vediamo allora, andiamo in taglio basso nella seconda parte della pagina del Corriere dello Sport per approfondire gli argomenti che ha trattato il Corriere, che tratta il Corriere nel titolo principale. E allora il mercato, Galliani per quanto riguarda Cassano, trattiamo, ma Silvio è incerto, vertice nella notte. Poi la partita, a partire del trofeo Berlusconi, Marchisio, Vidale e Matringoli, inutile doppietta di Robigno. Andiamo un attimo di spalla perché c'è un altro caso che tiene in ansia una tifoseria ed è quello a Firenze per Jovetic, Jovetic un accordo non scritto, fa tremare Firenze con 30 milioni cash la Fiorentina, può perderlo il City, vuole pure Nastasic. Staremo a vedere. Continuando sulla spalla, per chiudere qui a destra, parliamo della Coppa Italia, dal Siena offerta per Guidetti e questo è un mercato, ma il Siena soprattutto ha battuto il Vicenza 4 a 2 ieri nel posticipo del turno di Coppa Italia, l'ultima partita di questa tornata di Coppa Italia e quindi il Siena passa il turno. Vediamo invece tre box sui campionati stranieri, perché in Inghilterra il City ha vinto in rimonta, come dicevamo, ok, però perde Aghero, per Noie ad un ginocchio. In Spagna il Barcellona a Valanga, stacca già il Real, fermato da Valencia. Infine in Francia, qui c'è la foto di Ezechiel Lavezzi, Ancelotti e Lavezzi espulsi, il PSG fa 0 a 0. Chiudiamo con il Moto Mondiale, con la MotoGP, Pedrosa Rea d'Indianapolis, Disastro Rossi, MotoGP, ripodio per Dovizioso, Valentino a un minuto, Stoner quarto con il piede rotto. C'è la dire che Pedrosa in questo weekend, l'ultimo weekend, ha dominato sia le prove libere che le qualifiche che poi la gara vincendola. Quindi ha meritato senz'altro appieno il successo. A pagina 2 sul Corriere dello Sport, Pazzini Cassano, Berlusconi non dà il suo ok, possibile clamoroso scambio con Pazzini bloccato dal Presidente, mentre Fantantonio ieri è tornato a Genova sicuro del trasferimento. Da quest'altra parte a pagina 3 Juve ricca e forte, il Milan in affanno, sul nuovo manto di San Siro Robigno apre e chiude il match, dominato però dalla doppia squadra di Carrera Conte a segno con Marchisio, Vidalle e Matri. Sul nuovo terreno di San Siro è un misto sintetico, erba naturale, erba naturale in superficie, sintetica in profondità, sembra essere la soluzione giusta per evitare i problemi del campo di San Siro, problemi atavici. A pagina 4 Gelo sul Milan, mai così lontano dai suoi tifosi, tifosi quindi che manifestano un po' di indifferenza e sono preoccupati. A pagina 5 invece la Juventus, questa Juve ha ancora fame, lo dice Barzagli, abbiamo fatto vedere chi siamo. Conte il giorno più lungo, il tecnico della Juve davanti alla Corte federale, appello ai 10 mesi, cerca uno sconto, la credibilità di Carobbio alla base della linea scelta dai legali di Conte, Viale 14, in attesa pure il Grosseto, escluso dalla serie B. E poi domani invece il filone relativo all'altra inchiesta, quella di cui dicevamo, per la quale Palazzi ha impugnato tutti i verdetti di assoluzione e di proscioglimento della commissione disciplinare in primo grado. Tutto sport, troppo forti, strapotere Juve anche nel Berlusconi. Milan battuto 3-2, subito a segno Robigno, poi la rimonta firmata da Marchisio, Vidal e Matri. Influente al rigore realizzato nel finale dal brasiliano, Mercato. Iorente minacciato di morte dai tifosi del Bilbao, vertice nella sede, bianconera per l'Iksteiner sul quale si è tuffato il Paris Saint-Germain, tanto per cambiare. Vediamo qui sotto la testata, a sinistra i desideri del Torino, Eduvargas e Cerci, il Toro va all'assalto, Inter e Cassano il grande colpo, poi di spalla un'altra serie di notizie. Stasera il Barça, Garrone ordina Samp, ora devi ripartire il trofeo Gamper a 20 anni dalla finale di per celebrare il ventennale della finale della loro Coppa dei Campioni, che si gioca a Wembley tra Barcellona e Sandoia con la vittoria del Barcellona, grazie ad un gol su punizione di Koeman, sempre in spalla, proseguendo verso il basso, Funes Mori per Montella, quindi la Fiorentina potrebbe prendere questo giovane e promettente calciatore, mentre lo Spezia oggi avrà Okaka. Più in basso il sitio Kane rimonta, ma Aghero si fa male, qui una foto di Aghero sofferente, il 24enne genero di Diego Armando Maradona, ieri ha dovuto lasciare il campo, anzitempo per noi ad un ginocchio. Vediamo sugli altri sport, MotoGP vince Pedrosa e Dovizioso sale sul podio, poi si va verso le Paralimpiadi, parla Zanardi, dieta per loro e addio Birra, determinato quindi Alex Zanardi a conquistare l'oro alle Paralimpiadi di Londra. A pagina 7, Juve salva Iorente, i tifosi lo minacciano di morte, Gheco segna Maghero, KO lo blocca. C'è una notizia curiosa che vale la pena di sottolineare, e cioè l'Atletico Bilbao è un club non per tutti, chi segue il calcio da molto tempo, il calcio spagnolo, sa di questa particolare situazione che c'è a Bilbao, e cioè nello statuto è scritto che possono giocare nell'Atletico soltanto calciatori nati nel Paese Basco, oppure cresciuti nel settore giovanile di una delle società basche, ad esempio la Real Sociedad Paese Basco che comprende quattro regioni spagnole e quindi possono giocare soltanto giocatori che hanno i Natali nei Paesi Baschi. Per questo non si parla mai di contropartire tecniche, soltanto soldi perché sarebbe una violazione dello statuto, una contropartire tecnica con un giocatore che non è nato in uno dei Paesi Baschi o non ha giocato nel settore giovanile di una delle squadre dei Paesi Baschi, quindi una situazione un po' difficile dal punto di vista delle trattative di mercato, ma se vogliamo anche molto semplice perché chi vuol prendere un giocatore dell'Atletico e Bilbao deve sborsare soltanto, solo ed esclusivamente soldi, a meno che alcune trattative non avvengano in Spagna tra squadre dei Paesi Baschi o comunque tra squadre spagnole o straniere con giocatori baschi che giocano da qualche altra parte e tornano all'Atletic Bilbao. Una curiosità che sicuramente è interessante, interessante sottolineare. E poi in breve a pagina 15 c'è anche la nostra udinese, il richiamo all'appuntamento di mercoledì in Champions League 20 e 45, l'udinese affrontò lo Sporting Braga, il ritorno si disputerà martedì 28, manca ancora qualche giorno per la gara in casa, ma sono stati già venduti 5.400 biglietti, siamo quindi vicini alla soglia dei 6.000 biglietti già venduti per la partita di ritorno che non avrà copertura televisiva in chiaro, quindi mi raccomando tifosi bianconeri tutti allo stadio per una partita che sarà sicuramente fondamentale per il futuro della squadra. Andiamo sui quotidiani locali e cominciamo con il messaggero e c'è una notizia di cronaca bruttissima che abbiamo appreso ieri, davvero una tragedia, una bruttissima notizia arriva da Lignano, una coppia è stata massacrata in casa a Lignano, Paolo Burgato e Rosetta Sostero uccisi nella loro villa, li ha trovati ieri mattina il figlio. Di spalle il rapinatore li ha pedinati in questi giorni, familiari un colpo studiato. Davvero una bruttissima notizia di cronaca, ieri una giornata a Lignano di festa per la sfilata delle frecce tricolori, l'air show in generale con altre acrobazie da parte di altri velivoli, una giornata che è stata così rovinata da questa bruttissima notizia che si è appresa. Andiamo invece allo sport, in basso a sinistra è un Udinese top secret verso la sfida Champions, testa a porte chiuse, primi guai per Guidolin, si ferma Muriel, Muriel ha avuto soltanto una leggera indisposizione, nulla che possa pregiudicare la sua partecipazione alla trasferta di Braga. Mentre si fa anche una riflessione sul calcio e il business, il match con il Braga vale 20 milioni tra televisioni e UEFA. Andiamo all'interno dove c'è tutto lo spazio dedicato all'Udinese nell'inserto sport del lunedì, il titolo è questo, l'Udinese anti Braga si nasconde, Muriel si è fermato, Di Natale ha lavorato a parte, Guidolin allena ancora a porte chiuse. Pizzu dice sono vietate le false partenze. Andiamo a leggere qualcosa sugli avversari, il Braga è su di giri, ha pareggiato 2-2 nella prima giornata di campionato contro il Benfica di Lisbona, però la difesa, ma la difesa spesso balla. Al centro i conti far fuori i portoghesi può portare in cassa fino a 20 milioni di Euro. Poi la storia, il Milano Godeas e quel gol segnato allo Sporting, però con la maglia di un'altra squadra. Come andremo a vedere all'interno, qui di spalla nella prima pagina dell'inserto sport, Vuelta già finita per Gasparotto, Cimolai settimo. Parliamo anche di ciclismo, così magari se ci segue il mister sarà contento. A pagina 30, verso la Champions, le mosse, la carta Muriel resta ancora coperta, salta delle ultime prove con Totò, dietro Fabbrini o Maicosu, il colombiano si è fermato durante i test dell'altro giorno, pare solo un malano intestinale non muscolare, tanto che ieri si è rivisto in allenamento. Come dicevamo, ha avuto soltanto una leggera indisposizione, un problema intestinale, quindi senz'altro potrà essere aggregato alla trasferta a Braga. Poi si vedrà se il tecnico deciderà di mandarlo in campo oppure no. Il tecnico è tentato comunque da cambiare soltanto due undicesimi della formazione da terzo posto, cioè Burkic al posto di Andanovic che è andato via e Williams per sostituire Andanovic a Samoa, quindi due giocatori che sono andati via per due nuovi che sarebbero pronti a giocare dal primo minuto. Allenamenti a porte chiuse e sono tre, scrive il messaggero, non era mai successo con Guidolin, ma è chiaro che in questo momento Guidolin le studia tutte pur di preparare nella maniera più corretta possibile, secondo quelle che sono le sue naturalmente ed è le sue considerazioni il match più importante della storia recente dell'Udinese. Montella soddisfatto a metà, ci catapultiamo, andiamo facciamo così, andiamo un attimo in alto perché c'è ovviamente ancora lo Sporting Braga, così chiudiamo il capitolo Champions. Questo Braga è su di Giri ma la difesa spesso balla, nel 2-2 sul campo del Benfica lo Sporting ha giocato a grande ritmo, José Peseiro ha scelto un 4-3-3 con Ugo Viana, con Mossoró, finte punte. E qui vediamo proprio una foto del giovane brasiliano Marzio Mossoró che ha realizzato il gol del momentaneo 1-2, poi c'è stato il 2-2 finale tra Benfica e Sporting Braga. Verso il campionato, l'avversaria sarà la Fiorentina, Montella soddisfatto a metà dalla Fiorentina di Coppa Italia. Dobbiamo crescere molto e sempre per quanto riguarda la Coppa Italia per l'Udinese ci sarà proprio la Fiorentina oppure la Juve Stabbia nell'ottavo di finale dove l'Udinese aspetta l'avversaria per poter iniziare la sua avventura con la Coppa Italia. Andiamo a vedere invece l'analisi economica fatta dal messaggero sui proventi che derivano dalla partecipazione alla Champions, dall'eventuale partecipazione auspicabile, ovviamente partecipazione alla fase a Gironi. Intanto c'è un dato interessante che ci fa capire, l'Udinese a parte quanto sia importante la Champions anche per i grandi club, quelli che giocano per vincerla, perché alla fine in caso di vittoria di Champions si può arrivare a 44,6 milioni di Euro totali di premio per la squadra che vince. Certo, è ben augurante vedere il simbolo della nostra Udinese in questo riquadro dove si dice, in caso di vittoria, 44,6 milioni di Euro dalla Champions. Gli altri dati sono questi, andiamoli a leggere, perché con l'eliminazione nei preliminari e facciamo gli scongiuri si incassano 2,1 milioni comunque. Per la disputa invece della fase a Gironi si arriva a 9,2 milioni di Euro con un minimo garantito di 3,9, bonus di 550 mila per ognuna delle gare e si arriva a 3,3. Premio di risultato si stimano quindi 2 milioni con 800 mila Euro per la vittoria, 400 mila Euro per il pareggio, un totale di 9,2 stimati, mentre con l'eventuale qualificazione agli ottavi si aggiungerebbero altri 3 milioni, ai quarti 3,3 alle semifinali 4,2. Poi c'è il premio per il vincitore finale che è di 9 milioni di Euro, la perdente incassa solo tra virgoletti a 5,6, poi 10 milioni e mezzo per diritti di tv e sponsor, 3,3 per gli incassi stadio, le gare casalinghe più sponsor per i propri sponsor, quindi un altro incasso di 3,3 milioni. Totale chi vince arriva a 44,6 milioni di Euro. Vedete invece che cosa succede dall'altra parte con l'Europa League dove il premio drasticamente si abbatte a 11 milioni 440 mila Euro. La qualificazione può valere fino a 20 milioni. Nella fase a Gironi ogni squadra è riconosciuto un premio come dicevamo di 3,9 milioni. Poi c'è una variabile legata ai risultati, questo fa sì che con il premio legato ai risultati si limitino molto le possibilità di partite giocate senza mordente quando si è ormai fuori dai giochi. Questo rende quindi sicuramente più equilibrata, più credibile la Champions League anche nelle ultimissime partite delle fasi a Gironi quando una squadra magari è ultima, non ha alcuna possibilità di andare né in Europa League né tantomeno di passare il turno, gioca sempre e comunque alla morte perché magari con un parigi o con una vittoria si prendono 400 mila Euro oppure 800 mila Euro e a volte i presidenti destinano questi premi proprio ai calciatori per far sì che la squadra faccia bella figura in queste occasioni. Chiudiamo con la curiosità che riguardava Godeas, un colpaccio non è cosa impossibile secondo Godeas, l'attaccante cormonese ai tempi del Chievo ha affrontato lo sporting in UEFA, noi uscimo ai supplementari udinese non si farà certamente sorprendere. Andiamo a leggere il gazzettino del Nord-Est per chiudere questa nostra rassegna. Partiamo con l'economia, Monti la fine della crisi più vicina, il Premier l'appoggio al governo dei tre partiti di maggioranza è un miracolo quotidiano, in occhiello il Presidente del Consiglio al meeting di Rimini, una generazione sta pagando troppo. Andiamo in basso a vedere invece una notizia che riguarda lo sport ma non tanto lo sport, è una notizia che vogliamo sottolineare perché c'è di mezzo una sportiva corso alle Olimpiadi di Pechino ma pensate un po' è annegata su un barcone verso l'Italia, una giovane somala che sognava l'Occidente, passata dalle Olimpiadi di Pechino al tentativo di raggiungere l'Italia da clandestine purtroppo è annegata. Andiamo di nuovo allo sport nell'inserto del gazzettino a pagina 8 e 9, i biancondieri continuano ad allenarsi in clausura, il patron rientra dalle ferie per stare vicino ai giocatori in un momento chiave per il futuro dei friulani. Qui in basso il gazzettino dice che Muriel è a disposizione, come dicevamo noi, soltanto una lieve indisposizione, lo ha tenuto fuori nella partitella amichevole contro il Tamai, peraltro Muriel aveva iniziato a giocare e poi ha lasciato il campo appunto perché non se la sentiva, era debilitato dal punto di vista fisico. Il valore aggiunto della Champions che assicura sfide da tutto esaurito, anche il gazzettino si occupa di risvolti economici per i friulani, incoraggiante il precedente del 2005. Siamo giunti al termine di questa rassegna, prima giornata di rassegna con Palinzesto autunnale, partenza alle 7.30 in diretta e domani alla stessa ora saremo qui per aprire la giornata di informazione di Udinese Channel. Domani è una giornata importante perché la poi partirà per Braga dove ci sarà la rifinitura, la conferenza di Guidolinio e noi saremo naturalmente in diretta con i nostri appuntamenti abituali ed extra, cioè appuntamenti extra che vengono legati a quello che accade e quindi con la conferenza di Guidolinio certamente noi saremo in studio qui per commentare, ascoltare, poi commentare le parole del tecnico. Vi ringrazio per averci seguito, buon proseguimento con Udinese Channel. Grazie. 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 Grazie.